salve a tutti amici artisti e benvenuti in questa quarta puntata di caped dove faremo questo di boss irrascibili e poi le dado cercheremo di farlo nel minor tempo possibile perché ci mettiamo a 70 anni e prima di iniziare ci tengo a salutare Andrea e Ciro che sono due miei amici allora partiamo ok iniziamo normale allora già l'abbiamo provato quindi non dovrebbe essere difficile molto complicato non è più o meno fattibile clicca maio 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 vediamo si devo ricordare ok va vai clicca però cominciamo bene già ho perso una vita vai cerchiamo ad andare bene ah 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 no vino ok ok allora mi ricordo che è facile questo 後 torno si butta in avanti all'improvviso ah ah visto ah vino vai senza vino mi con tanta nessuno sa che viene io senza cribio il fuoco sembrava possibile da superare perché fuoco il raggio verso il basso che come si supera non ci si sa ho capito euroindustrie allura dai 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 Gesù Vabbè guarda qua non hai niente di male Gesù Gesù Dai schiatta Toro Ok dai dai è così facile così facile Schiatta 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 Vino vino Ah non vinare L'ha neutralizzato praticamente Eh si porca p***a Erano abbastanza facili queste qua Fanno il raggio Devi solo capire in che senso girare Senso anti-orario Ok ma tutto al contrario Quindi mo aspetta E' un problema Annaccio Sottoraggeram Vabbè però guarda è facile Si Ready Allora io devo Il problema è schifare quegli altri Ah Ah No Dai vino Ah Infatti c'è Ah Un altro twist 5 razze 6 razze Mo diventa E' terzo signo Terzo signo L'ultimo A luna luna Ma è la luna Ma mi sono andata proprio addosso Mucca Sì sì Mucca Sì sì Mucca luna Mucca luna Mucca luna Ma quante cavolo di stelle lancia Mucca luna Mucca luna Mucca luna Mamma mia Mamma mia Mucca luna Sì Allora ora ci tocca solo andare un attimo da Redado Andarlo a salutare solo che per come sarà impossibile Poi è stato impossibile per quell'immagia di con Redado Ancora peggio C'è io quindi Vabbè C'è quindi qua sta scritto Ah isola Calamaio 1 Ok quindi questa è la nuova isola Isola Calamaio eh Ah Infatti è diverso vedi No era figo il livello alunapark Eh sì Papagne russe Oh mio dio sto per fare una cosa impossibile Proviamoci dai proviamoci 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 Ragazzi mi raccomando l'occorrente Mi raccomando ragazzi l'occorrente portatelo Ok Ce la possiamo fare Mi raccomando Questo clown di merda Noi dobbiamo distocco giallo Ma si attaccata Bam Eh bam You mother fucker Eh bam Ma poi in America c'è Se dicono se c'è un'aeremoce Dicono madre fucker Ma io so Ma è bello se poi dicono le parole in italiano Perché poi ne dicono in English Un modo fucker Immaginare lo dicono in italiano Ok 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 oh ragazzi Ora il ciucco Mi hai mai stato fatto Così facile Non è mai stato così facile Ehi tu hai tanto facile Non è stato Statelo Cat Sos Cos Portatelo I Mamma mia UUUU c'è una domanda che è stata una cosa che vada assurda spero che questa quarta puntata di cappette vi sia piaciuta se non lasciate like vengo sotto casa vostra e vi stuplo quindi lasciate like, commentate, condividete con tutti quanti diffondete il canale, al prossimo iscriviti al canale